Mi chiamo Domenico Fuoco, a me ne hanno scritto tanto, ho detto che sono spaccaprete, che erano spaccaprete, io non so come hanno fatto a mandarsi questa cosa, io spaccaprete non mi sono fatto male, ma poi a me ne hanno mandato tanto, ha cominciato agli nuovi, chissà quanti anni ti hanno passato prima che si cominciano a capire come erano veramente le cose. Io sono militare, sono stato sempre militare, da quando sono tenuto l'età per faglia. Prima erano sergenti, ora erano fatti capitani. Nel 1860, quando è cominciato tutto, erano sergenti, le cose erano davvero male, perché la Trosca si era messa d'accordo che ci tenevano a fregare e ci stavano a riuscire. Mi hanno mandato ai paesi miei, che tenevano a cercare volontari, volontari di parlare. Ma i paesi miei mancavano una buona cosa. Tutti i signori del paese, si che erano fatti, le poste erano montate tutto il carburale. Dice che combattevano per la libertà, si capite? Che la gente che era fatta sempre quello che gli pareva, voleva la libertà, perché pare che prima stavano attaccati. E niente, io lo so che volevano però. Volevano fregare la terra alla povera gente. E si mangiano sapone che è venuta, ci sono andata pure buona. Alla fine la terra è venuta. Poi vanno facendo i signori, che lasciano avere i canguoli. Finchè non arrivi con la banda però. Perché basta una scompettata della campagna e spariscono tutto quanto. Come gli sorge quando si interaggiano. Un danno però. Erano più fortissimi. Io non arrivo a scappare. Ma sono scappate e lì ho cominciato tutta la cosa. Prima che la grancia. Corre in cibo per lavare la rovetta. La civitella rovetta. Un po' di corsa presto a bauca. Sempre facendoci l'aria scompettata. Un po', un po' di roba che ciavone. Un po' di roba che ciavone. E roba ancora che tristano. E che serraganta. E che maccarone. E vanno a ricordare chi è stato. Non mi ricordo neanche tutto quello che è successo. Alla fine. Mi sono messo da su. Tenevo 250 uomini. Siamo cominciati la guerra. E siamo fatti cammini e siamo passati. La guerra è brutta. Gli uomini. Quando vedono la morte. Quando sentono la torre del sangue. Diventa una cosa. Diventa una bestia. Diventa cattiva. Noi siamo diventati cattivi. Pure se combatteremo per le coste. Forse lo storto lo siamo fatto pure noi. Ma la guerra è guerra. A me la guerra mi si è mangiata due frate. Mi si è mangiata mio nipote. Mi si è mangiata. Mi si è mangiata. Mi si è mangiata. Mi si è mangiata pure tutti gli uomini che teneva. Ma ne sono rimasti solo quattro. E le cose vanno sempre più male. Ultimamente ci hanno messo i soldi contro. Tramangoli certi tagli che mettono paura. A uno gli basta fare una spia. Dice che ci ha visto passare. Gli diventa ricco. Si guadagna i soldi che non si guadagna mai per tutta la vita. La gente che sta morita di fame. La tentazione è forte. E tutto quanto però non ha tradito. Ma io non lo vengo a sapere. Perché se lo vengo a sapere è morto. E' finito. Non lo vengo a sapere. Non lo vengo a sapere perché non lo vengo a sapere. Non lo vengo a sapere perché non lo vengo a sapere. Non lo vengo a sapere. E' fatto è che anche chi è sempre fedele. Tutti i soldi che stanno arrivando è diventati pericolosi per loro. Non lo vengo a sapere. Non lo vengo a sapere. Non lo vengo a sapere. Che tutti li chiamano con parole. Sono anni che ci portano la roba. Gli chiamano manutencola. E' diventata ricca attorno a me. Perché questi quando portano le cose. Si fanno pagare. Si fanno pagare pure buone. E ci hanno saltato i soldi. Ma però sai che... Mi trovano poco stretta. E allora mi è convinto a fare il rapimento di tutti i paesi. Quindi conoscevo e conoscevo questi. Mi ha detto che erano. Quanto soldi potevano pagare. E ho organizzato tutti. Poi mi ha dato appuntamento. Qua in cima. A questa montagna. Io però mi sono aspettato a dove ci vanno. Perché a Michele già mi stanno dando pochi sospetti. Mi sono fatto trovare. Una. Le manano da parte. Ora è arrivato qua a questa perotta. Una somma. Carica di roba da mangiare. E siamo mangiati. Siamo mangiati buono. Troppo parecchi giorni che staremo a tv. E mi dice che mi sono fatto pure per fare un bicchiere di vino. E mi pare che... Mi è dato poco in capo. Infatti mi sento strano. Però... Come si è comportato con il barone non mi è piaciuto. Io sono visto che anche io tenavo qualcosa. Allora si che sono fatto? Io sono fatto rimanere a dormire qua. Ma sera. Allora si sta dentro la perotta. Io mi sono messo qua fuori. A saluto alle fresche. Perché lo so detto. Pare che se vieni mi radiano poco in capo. Anzi pare che mi sta venire pure nella città di suona. E speriamo che ora che l'aria fresca non si passa. È facile. Grazie. A casa possibile.